Questo lo mettiamo sulla piastra per riscaldarlo. Aspettiamo. Intanto facciamo cuocere per 5-6 minuti, anche 7. E intanto, se avete una piastra così, quando inizia ad essere bruschettato, intanto schiacciate un po'. Iniziamo a controllare. Ancora non è. Adesso vediamo se avete un coltello. Sentiamo se va bene, se è cotta. La rifacciamo riscaldare. Intanto che spianta, lo mettiamo qua. Lo prendiamo e lo mettiamo qua. Poi ci mettiamo un po' d'olio. Poi ci si mette il sale. No, no. E adesso è pezzo. Se ci volete aggiungere anche un po' di pomodorini, ma noi no. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti